Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo un'altra maglia retro, l'avrete sicuramente riconosciuta. Questa è la prima del Napoli della stagione 87-88, in onore del Napoli appunto campione d'Italia e di Diego. Grazie per la visione! La maglia è molto bella, era un pezzo che non poteva mancare nella mia collezione, il costo lo vedete qui sopra per questo pezzo di storia veramente bassissimo. Se volete saperne di più trovate qua sotto tutti i riferimenti, andate a vedere queste e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale, prima però se volete vedere altre recensioni come questa, mi raccomando iscrivetevi al canale! Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!